Sono qui oggi a portare il saluto della Fondazione Cassa di Risparmio, a nome del Presidente di tutto il Consiglio. È il terzo anno che interveniamo con un contributo a favore della settimana della bioarchitettura e della sostenibilità perché crediamo che l'Agenzia per la sostenibilità e lo sviluppo sia un ente molto rilevante per il territorio in quanto promuove iniziative di studio importanti dal punto di vista della sostenibilità degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbana del nostro territorio. Perché lo facciamo da qualche anno? Perché da alcuni anni a questa parte alcuni progetti di studio, alcune analisi, attengono a edifici storico-monumentali del nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio che opera come ambito di intervento per tutta l'area nord della provincia di Modena e in questo caso lo studio riguardato l'ex convento dei Gesuiti di Mirandola, un edificio molto importante per la città sul quale è interessante anche capire quali possono essere le strade tecniche, i percorsi tecnici di riqualificazione che possono essere adottati per cercare di recuperare un edificio come questo e come a tanti altri del centro storico che a causa del terremoto purtroppo sono stati gravemente danneggiati. La fondazione opera negli ambiti territoriali di questi comuni, opera anche per cercare di sostenere lo sviluppo economico e quindi questa iniziativa rientra a pieno titolo fra quelle che la fondazione può sostenere. Non mancherà il nostro impegno anche per i prossimi anni se ci saranno progetti e iniziative che interverranno sul nostro territorio perché crediamo che sia un valore aggiunto per poter cercare di recuperare e quindi di rilanciare un po' le nostre città.